A Milano è ormai guerra di criminalità organizzata. Pasquale Tatone, fratello dell'ex boss Emanuele Tatone, ucciso domenica scorsa insieme ad un'altra persona, è caduto vittima di un agguato questa notte. Pasquale era appena uscito da un locale di Quartogiaro quando è stato freddato a colpi d'arma da fuoco nella sua auto. La famiglia Tatone è considerata uno dei maggiori clan della gestione del traffico di droga in città. Per la Lega Nord è sconvolgente che quello che sta succedendo a Quartogiaro avvenga nel totale disinteresse della giunta milanese. Prosegue senza sosta una faida tra famiglie della criminalità organizzata. Le periferie sono abbandonate e lasciate solo, ha scritto in una nota il segretario provinciale e consigliere comunale Igor Iezzi. Prima che Pisapia si degni di fare qualcosa, a quanti omicidi dovremo ancora assistere? Da tempo, ha proseguito Iezzi, il consiglio comunale. In consiglio comunale chiedo che tutte le periferie e Quartogiaro in particolare non siano considerate solo come ghetti nei quali riversare tutte quelle problematiche e criticità che l'amministratore comunale vuole tenere lontano dal centro. Con Pisapia, Quarto, ha avuto solo dormitori per profughi e Clochard. Gli ultimi 60 siriani sono arrivati proprio ieri, che hanno aggravato una situazione di disagio già presente. Grazie a tutti.